Lo faremo con impegno, perseveranza e passione. Metteremo a disposizione tutte le nostre risorse per attuare il programma della candidata sindaca di Nelda Artaglione. E non ci risparmieremo. Sono brevissimo nelle cose, non mi va di criticare l'altra parte che sta in continuo a fare polemiche su di noi, vistevote, non vistevote. Noi saremo vincenti e vinceremo. Mi chiedo un applauso per gli amici moderati. Emanuele Aventola, Anna Maria Audino, Margherita Carosone, Antonio De Cicco, Antonio Del Buono, Biancio Di Pernatto, Raffaele Iurbice, Cennarino Merola, Carmen Minadeo, Alessio Musica, Domenico Riva, Carmen Veronica Paolella, Maria Rosaria Viccivillo, Ferdinando Pulcrano, Nicola Russo, Francesco Sario, Margherette Sarno, Concetta D'Artaglione, Giovanni D'Artaglione, e per finire Marco Valletta. Grazie a tutti.